Nuovo appuntamento il 20 agosto con il Teatro dei Piccoli, la nuova rassegna della campagna La Botte e il Cilindro, ideata per la manifestazione Sassari Estate 2020, organizzata dall'assessorato alla cultura del comune di Sassari. Il mini cartellone di 4 eventi pensato per i bambini sarà messo in scena nel cortile dell'istituto comprensivo statale San Giuseppe, ex scuola media numero 2. Il Teatro dei Piccoli mette insieme alcuni tra i titoli più amati del repertorio della Botte e il Cilindro, in cui sono presenti produzioni, storiche e progetti che esplorano diversi linguaggi teatrali, sempre in linea con la politica della compagnia sassarese, l'educazione al piacere del teatro. Appuntamento alle 21 con Filastrocche in cielo in terra e in mare, ispirato all'opera di Gianni Rodari in occasione delle celebrazioni dedicate al centenario della nascita. L'adattamento e regia sono di Sante Morizi, sul palco Daniele Cossiga, accompagnata dalle musiche eseguite da Salvatore De Logu. Ai sensi della normativa vigente relativa al contenimento della diffusione del virus Covid-19, si raccomanda di pronotare i biglietti con largo anticipo inviando un'email a biglietto bottecilindro chiocciolagmail.com